13 Grandi benefici del succo di guava La guava è uno dei frutti più completi che la natura ci ha regalato. Il suo apporto al nostro organismo è inestimabile, infatti è ricco di fosforo, gniacina, potassio, vitamine A e B, ferro, calcio e acido folico. I benefici del succo di guava sono troppi per essere ignorati. La guava è un frutto tropicale che presenta più di 100 varietà tra gialle, rosse e bianche. Anche se di solito si mangia intero, oggi vogliamo parlarvi dei benefici che si ottengono bevendone il succo. 1. Combatte il dolore al cavo orale Anche se può sembrare difficile da credere, il succo di guava serve per alleviare il dolore causato dai problemi al cavo orale, come la stomatite e l'infiammazione delle gengive. Ricordate solo di lavare molto bene i denti dopo averlo bevuto perché contiene zuccheri naturali che potrebbero provocare carie. 2. Riduce l'infiammazione causata dall'acne. Il succo di guava possiede proprietà antinfiammatorie ed antisettiche che aiutano il processo di guarigione in casi gravi di acne. Per ottenere risultati migliori, applicatelo direttamente sulla pelle con acne e rimuovetelo una volta asciutto. Fate solo in modo che il succo sia del tutto naturale perché i conservanti e gli zuccheri dei succhi commerciali possono danneggiare la pelle. 3. Dona sollievo allo stomaco. Esistono due estremi per quanto riguarda i malesseri intestinali che il succo di guava è in grado di risolvere, la diarrea e la stitichezza. Grazie al suo grande apporto di fibre, un bicchiere di questo succo riesce ad attivare e a stabilizzare il sistema digerente. 4. Perdere peso. Il consumo frequente di questo succo aiuta l'organismo a perdere peso in modo efficace e veloce. Dato che la guava contiene fibre dietetiche, aiuta ad eliminare le tossine e i grassi. Allo stesso tempo, apporta grandi quantità di energie alle cellule. 5. Mantiene sotto controllo il diabete. Il succo di guava è ottimo per mantenere in buono stato i livelli di zucchero nel sangue. Questo succo, infatti, aumenta la produzione di insulina. È importante preparare il succo con la frutta priva di buccia, aggiungendo alcune foglie della pianta e senza mettere zucchero. Dovete anche assicurarvi di non eccedere nel suo consumo perché, sebbene aiuti a mantenere sotto controllo il glucosio, apporta anche zuccheri all'organismo. 6. Aiuta a combattere il cancro. La guava contiene una grande quantità di licopene. Questo potente antiossidante permette di combattere nell'organismo i radicali liberi e riduce le probabilità che si attivino cellule cancerogene. 7. Combatte le malattie respiratorie. Bere succo di guava aiuta a mantenere sotto controllo l'insorgere di malattie che di solito si sviluppano in epoche di pioggia, come febbre e influenza. Ciò grazie al suo elevato contenuto di vitamina C che rafforza il sistema immunitario in modo naturale. 8. La pelle sarà radiosa. Il succo di guava porta elevate dosi di vitamina A, E, B e potassio. Esso fornisce antiossidanti che proteggono la pelle e la mantengono sana, pulita e tonica. Assumendo regolarmente questo succo, manterrete un aspetto giovane ed eviterete l'invecchiamento precoce. 9. Previene l'anemia. Grazie al suo apporto di ferro, la guava è ideale per combattere i processi anemici. Assumete questo succo se vi sentite molto deboli o se vi è stata diagnosticata un'anemia. 10. Aiuta il sistema circolatorio. Il succo di guava protegge in generale il sistema circolatorio. Aiuta a mantenere una pressione arteriosa idonea. Controlla i livelli di colesterolo. Permette di mantenere le arterie e le vene prive di depositi di grassi. Tutto ciò è di grande aiuto per la prevenzione delle malattie cardiache. 11. Mantiene sano il sistema nervoso. Un sistema nervoso sano è di grande importanza e grazie al suo apporto di magnesio, la guava ci aiuta a mantenerlo in perfette condizioni. Si consiglia di assumere un bicchiere di succo di guava in caso di problemi al sistema nervoso o per prevenirli. 12. Aumenta la capacità immunitaria. La guava rafforza il sistema immunitario se assunta sotto forma di succo. In tal modo, aumenteremo considerevolmente i globuli bianchi e rafforzeremo la produzione di enzimi riparatori delle cellule. 13. Aiuta a mantenere sano il cervello. Le elevate dosi di vitamina B6 e niacina contenute in questo succo garantiscono la protezione del cervello tramite un flusso adeguato di sangue. A sua volta, ciò permette un elevato grado di stimolazione cognitiva. Alcuni consigli sul consumo di succo di guava. Per parlare delle proprietà benefiche del succo di guava, ci vorrebbero molti più articoli. Ricordate, però, che gli eccessi non sono mai consigliati. Per questo motivo, di seguito vi diamo alcuni consigli per assumere correttamente questa bevanda. Non bevete succo di guava confezionato. I conservanti, infatti, annullano le sue proprietà medicinali. Evitate di aggiungere zuccheri raffinati quando preparate il succo. Se lo fate, ne altererete i benefici per l'organismo. Non aggiungete troppa frutta. L'ideale sarebbe assumere questo succo da solo. Mescolandolo con altri frutti, la quantità di zuccheri sarà eccessiva e ciò potrebbe alterare i livelli di glucosio nell'organismo. Come avete visto, si tratta di un succo incredibile. Includetelo nella vostra dieta giornaliera tenendo in considerazione i consigli che vi abbiamo dato.